Rieccoci per questo nuovo appuntamento con i giornali TV, ritrovati da Pasqualino Rettura, come sempre il PNRR, uno degli argomenti sempre più attuali che troviamo anche oggi sulle pagine dei quotidiani, sia regionali che nazionali, poi leggiamo anche di un taglio dei fondi che riguarda la Calabria sulla scuola soprattutto, insomma questo è altro che tutto ciò che viene riportato oggi sui quotidiani in edicolo, intanto infatti partendo dalla prima di Gazzetta del Sud a proposito del PNRR, infatti leggiamo PNRR, il governo rimodula gli obiettivi, tra i nodi da sciogliere, gli asilo nido e i trasporti a idrogeno in Calabria, quindi informativa del Ministro Fitto alle Camere, lo sblocco della terza rata nelle prossime ore. Poi il disastro di Cutro sia all'estradizione del presunto scafista, c'è l'incidente probatorio, Catanzaro, favori in carcere, la pentita accusa un assistente sociale, poi mancano le palestre per gli alunni, Reggio Calabria, Vibbo e Cosenza si collocano in fondo alla graduatoria nazionale, male anche Catanzaro e Crotone. Poi la mezza terme, screening a rilento, gli esami eseguiti rimbalzano da un ospedale all'altro, e poi in Drangheta al nord, operazione Cagliostro, gli affari del Vibbonese coinvolto nelle truffe. Poi ancora a centropagina su Gazzetta, la Mater Domini salderà i debiti con l'Università Catanzaro, raggiunta l'intesa su una vicenda aperta da 15 anni. Di spalla, bassa crescita e paesi indebitati, modificato il patto di stabilità. Poi a centropagina si telefona a Zielinski, Noi per la pace, il leader cinese, finalmente prove di dialogo Cina-Ucraina, ma resiste la rigidità russa. Poi ancora pensioni alle donne, a segni inferiori di circa il 33% rispetto agli uomini. Ferito a Kerson, un giornalista italiano. Poi Milano, due rettori rinviati a giudizio, concorsi pilotati. Leggiamo, c'è questo punto interrogativo dalla prima pagina di Gazzetta del Sud, con cui come sempre noi abbiamo dato inizio a questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV. Andiamo anche a Gazzetta del Sud, web, criminalità rommo a Catanzaro, liquori, profumi, telefoni cellulari nelle celle di Siano. Poi Catanzaro, le mani dell'endrine sulle biomasse, sott'accusa boss sodali e imprenditori, la truffa di un vibonese, 100 mila Euro in lingotti in cambio di una valigetta e caffè. Poi dicevamo alla mezza terma screening a rilento, gli esami rimbalzano da un ospedale all'altro, Vibo Valencia, guardie mediche, fatti gli occorpamenti, arriva la revoca, poi Catanzaro, Profiti, accordo Magna Grecia-Materdomini, sarà ripianato il debito con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Volo militare urgente dalla mezza a Roma per il trasporto di un neonato in pericolo di vita, poi da sa, fiaccolata per il piccolo Giuseppe Bruni, morto a 4 anni per una febbre. Poi Fondazione Betania scioperano anche i lavoratori di Catanzaro, un drangheta a Catanzaro, nuovi atti nel processo scotto rinascita, i legali presentano eccezioni. Il processo rinascita scotto che si sta tenendo all'aula bunker di La Mezza Terme, poi frode sullo reddito di cittadinanza, tre persone sono state denunciate a Rocca Bernarda nel Crotonese. Poi a Serra San Bruno, un serpente in via Matteotti, il WWF tranquillizza, non è velenoso. Poi un olivo bianco nel cimitero di Crotone, in memoria delle vittime di steccato di cuotro. Dicevamo, asili, nido e idrogeno, tempi dilatati in Calabria, poi proroga, decreto Calabria, contatti e mediazioni sull'asse Catanzaro-Roma, PNRR, Mario Occhiuto, compito difficile, ma dobbiamo spendere bene le risorse, dice il senatore Mario Occhiuto. Questo dunque è la nostra prima parte del nostro appuntamento con il giornale in tv, la nostra prima parte dedicata alle notizie che abbiamo trovato sulle pagine di Gazzetta del Sud, sia sulla prima pagina online, sia sulla Gazzetta del Sud web. Nell'edizione cartacea del Quotidiano del Sud per proposito di PNRR, sulla terza rata del PNRR, Fittor assicura, intanto l'Unione Europea lavora sul patto di stabilità. Poi scuola, dicevamo, dei tagli alle scuole, la scure dei tagli sulla Calabria, insorge il Movimento 5 Stelle. I nuovi criteri di dimensionamento porterebbero ad accorpamenti e alla perdita di 79 autonomie. Alla Camera intanto è stata presentata una mozione che chiede un passo indietro al governo, no del centro-destra. Medicina estetica, Mangialavori sul Sia, la mozione, i progetti PNRR, alla Calabria, oltre 8 milioni di Euro per la diffusione delle pratiche sportive. Tragedia di Cutro, il test nega, poi spiega i ruoli dei pakistani, altri 40 migranti intanto sono sbarcati a Crotone. Sempre a Crotone, Ariasin, nuovo studio mette in guardia dai rischi, sanità, milioni di utenze non pagate, la soluzione per l'azienda ospedaliera unica di Catanzaro, la storia, la manager calabrese per le Olimpiadi Invernali. Poi Catanzaro, Parco Biodiversità, finanziamento da 1,2 milioni per il rilancio, Reggio Calabria, il Marca fa il botto, oltre 8 mila e 600 ingressi nel ponte del 25 aprile. Poi Vibo Valencia, guardie mediche da accorpare, l'ASP fa marcia indietro, Crotone, politica, lo scatto di Marini, mina gli equilibri del centro-destra, poi Reggio Calabria, fondi europei per l'agricoltura, è stata scoperta una frode milionare, c'è un'intervista a Biagio Izzo, l'attore napoletano che è stato anche a La Messia, al Teatro Grandinetti. Biagio Izzo racconta il suo spettacolo, poi libri, premio, la cava, vince Gianmarco Griffi, indennità Covid misera, il caso finisce in tribunale, poi l'iniziativa, Arberia di Calabria verso la visita a Tirana. Quindi il ministro Fitto sul quotidiano rassicura a breve soluzione sulla terza rata che sarà data all'Italia a proposito dei fondi del PNRR. Intanto l'Inps dice che a gennaio ci sono stati 422 mila occupati in più, lavori indeterminati, sono in crescita, crollano le uscite pensionistiche con opzione donna, leggiamo dal quotidiano del Sud. L'inviato di Repubblica il giornalista Corrado Zurino è stato ferito a Cashon, un proiettile contro l'auto di Corrado Zunino, è morto l'interprete, poi ancora processo sulla trattativa Stato-mafia attesa la sentenza della Cassazione. Arriva Barbie con sindrome di Down per un mondo più accogliente e inclusivo. Ecco i progetti finanziati con i fondi del PNRR a proposito della diffusione di pratiche sportive. Quindi gli interventi prevedono a Cosenza un palazzetto dello Squascio e il palasporto dei ragazzi, a Crotone la cittadella dello sport, a Vibbo a Cittadella dello sport Porto Santa Venere, poi riqualificazione e rigenerazione dello sport di Vibbo sempre. Poi a Catanzaro verrà realizzato con le risorse del PNRR l'impianto Corvo. Si procederà anche alla rigenerazione dello stadio Nicola Ceravolo di Reggio Calabria, Nicola Ceravolo di Catanzaro. Infine a Reggio Calabria con i fondi del PNRR verrà realizzata la nuova palestra Palloncino e riqualificato lo stadio comunale di Archi. C'è l'intervista a Anna Cozzolino, calabrese, io da Catanzaro a manager per Milano-Cortina, 2026. La scura dei tagli, dicevamo, penalizza la Calabria, insorge il Movimento 5 Stelle e tagli alla scuola. Poi sindacato, una commissione itinerante che visiti e ascolti gli istituti, la proposta lanciata da Biondo della Will alla Regione Calabria. Un albero al cimitero di Crotone per le vittime del naufragio, intanto un test prima nega un test prima nega e poi spiega i ruoli dei pakistani, c'è stato l'incidente probatorio a proposito della strage di Cutro. Cure palliative e nuova azienda d'Ulbeccola, cismedici, contraddizioni e incoerenze. Intanto l'Università Magna Grecia e l'azienda ospedalera unica si accordano sulle bollette i dubbi sui crediti, la battaglia tra decrete ingiuntive denunce alla Corte dei Conti l'accordo per compensare 15 anni di utenze che l'Università Magna Grecia di Catanzaro non ha pagato. Poi Ariasin di Crotone un nuovo studio mette in guardia dai rischi. Poi ancora Balneari, Rapani, mappatura delle coste italiane per mettersi in regola con la direttiva europea. Arberia di Calabria verso l'appuntamento di Tirana. Rinascita Scott botta e risposta tra la difesa e la DDA al Tribunale collegiale si deciderà appunto nella prossima udienza del 3 maggio. La questione dell'acquisizione della documentazione integrativa dell'accusa. quindi dopo il 3 maggio appunto il Tribunale dovrà decidere se appunto se il processo si fermerà qui nel senso che non ci sarà bisogno di ulteriore documentazione perché secondo la difesa degli imputati del processo della nascita Scott ci sono troppi documenti e questo violerebbe il diritto alla difesa quindi infatti gli avvocati dei difensori dei diputati del processo Rinascita Scott che sta tenendo all'aula bunker di Ramezia Terme gli avvocati hanno eccepito la nullità per violazione del diritto di difesa della produzione documentale tenuto conto dell'esigenza oltre che di poter visionare la documentazione di poter esercitare il diritto alla controprova e la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per le quali non siano presenti i file originali delle registrazioni delle intercettazioni il motivo del rinvio è stata l'assenza di uno dei giudici e pertanto è stata posta una questione di opportunità quindi poi la grande mole di documentazione gli avvocati non avrebbero molto tempo a visionarla per cui secondo gli avvocati dei diputati del processo Rinascita Scott così si violerebbe il diritto alla difesa a Catanzaro nuovo look e rilancio per il parco i progetti sono presentati sono stati presentati dal presidente del parco Michele Traversa c'è un finanziamento da 1,2 milioni di Euro lanciata l'idea di un multipiano da 700 posti a Gimigliano in cammino verso il santuario poi una Calabria senza Andrangheta 130 nunni al XIII convegno sulla legalità con il pubblico ministero della DDA Anna Maria Frustraci è sempre più problematica la realizzazione del porto turistico alla mezza terme progetto già in stato avanzato ma come si ricorderà nei giorni scorsi è morto uno sceico arabo che doveva investire quindi i fondi sono venuti meno ma adesso ci sono anche problemi aspetti tecnici grazie ai rilievi mossi dal dirigente del comune della mezza terme come scrive oggi il quotidiano del sud porto turistico diversi rilievi mossi a luglio scorso il dirigente del comune ha evidenziato criticità non si evince la presenza della dotazione minima dei servizi legati a 440 posti barca quindi a luglio del 2022 leggiamo dal quotidiano il dirigente del settore tecnico del comune della mezza Francesco Esposito ha mosso diversi rilievi appunto in riscontro all'esame dello studio di fattibilità tecnico economico presentato da Coipa International cioè riferito al progetto del porto turistico promosso dalla stessa società insieme alla mezza Europa quindi tanti rilievi rilievi mossi in pratica secondo il dirigente del comune della mezza tema la proposta progettuale leggiamo uno dei tanti rilievi la proposta progettuale non prevede alcun servizio all'interno dell'area di intervento che caratterizza il lotto pubblico infatti i parcheggi l'impianto di depurazione l'edificio da destinare a capitaneria di porto risultano nel lotto privato dell'intervento e sì perché questo intervento occuperebbe non solo terreni pubblici ma anche terreni privati addirittura alcuni di proprietà del comune di Maida per quanto riguarda la politica in questo caso l'autonomia differenziata secondo Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle l'autonomia differenziata frantuma l'unità del paese e c'è una iniziativa in programma a San Manco d'Aquino con la deputata Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle l'abbazia di Santo Femi e il suo territorio c'è un libro che si presenta c'è una proposta della consigliera comunale di La Mezzia prima di tutto Rosi Rubino un concorso di idee per le piazze e quanto chiede la consigliera comunale Rosi Rubino in una mozione una mozione che è stata rivolta al sindaco Paolo Mascaro per interventi di riqualificazione in diverse piazze di La Mezzia per migliorare l'arredo e il decorubano fra queste c'è anche piazza Mazzini a Curinga elezioni capacità di visione e progettualità secondo il candidato sindaco Elia Carmelo Pallaria che presenta la sua lista impegno comune e guidata appunto da Elia Carmelo Pallaria un ex generale della Guardia di Finanza Alberi e storie delle foreste in Calabria si presenta il libro di Francesco Bevilacqua il Lions Club di La Mezzia organizza l'iniziativa Cuore e cervello una giornata di prevenzione sanitaria nella sala consigliare Luisi un viaggio nell'arte degli anni 60 un altro appuntamento che si tiene a La Mezzia al Chiostro Caffè Letterario calcetto torneo di calcetto e marcialonga per la festa di San Francesco di Paolo a La Mezzia e poi per i Play the Games le ginnaste speciali Lamettine conquistano 40 medaglie ai Play the Games in Sardegna le ginnaste della Lucky Fiennes La Mezzia a Crotone acque agitate a Crotone nella centrodestra poi andiamo ancora alle altre pagine il Museo archeologico di Reggio Calabria fa il botto numeri senza precedenti al Museo archeologico di Reggio Calabria per il ponte del 25 aprile pensato un po' ci sono stati 8601 ingressi al Museo archeologico di Reggio Calabria provincia di Reggio Calabria il Tribunale dà ragione alla CGL integrazione delle ore a LSU e LPU sentenza favorevole a una lavoratrice contestata la redistribuzione delle risorse da parte del Comune a giugno ci saranno altri verdetti a Vibbo Valencia guardie mediche marce indietro il management dell'Asp revoca la delibera che accorpava alcune postazioni la decisione dopo le proteste e il 2 maggio è stata convocata la conferenza dei sindici a proposito dell'Asp di Vibbo Galletta lascia la direzione sanitaria poi Vibbo Marina Francesca un destino tragico e ingiusto la 24enne accomunata dallo stesso nefasto fato che ha colpito i suoi familiari la comunità di Vibbo Marina attonita per la scomparsa della giovane c'è stata una partecipazione tanta partecipazione appunto ai fondi di questa giovane quando la storia viene deturpata dai rifiuti sporcizia a gogo nella centrale galleria vecchio di Vibbo Valencia comune di Vibbo accelerazione su tutti i progetti lo dice l'assessore Chiara Valloti aiuti per chi ha necessità di integrazione economica per l'accesso ai servizi poi c'è un'intervista a Vibbo mi sento come a casa il prefetto grieco parla della sua esperienza vibonese appena iniziata quindi il nuovo prefetto di Vibbo che c'è da poco insediato alla prefettura di Vibbo Valencia poi il comune di Ricadi rischia il pignoramento interrogazione al sindaco ha il dovere di fare chiarezza c'è questa interrogazione al sindaco di Ricadi il balcone di Izzo tra equivoci e risate l'interprete napoletano in tour teatrale in Calabria è stato anche alla mezzia terme Biagio Izzo dice il pubblico calabrese è bellissimo lo spettacolo è appunto balcone a tre piazze lo spettacolo che appunto sta portando avanti in Calabria è stato alla mezzia terme è stato anche al teatro Rendano di Cosenze ora sarà anche al teatro Cilea di Reggio Calabria e al teatro comunale di Catanzaro ma sarà anche al cinema Vittoria Diamante e per finire al cinema teatro Metropolo di Corigliano Calabro quindi un tour in Calabria di Biagio Izzo come riporto oggi è un'intervista all'attore napoletano Il Quotidiano del Sud l'evento gran finale del concorso della fondazione Carical che racconta il suo territorio questo era poi i Bum D'Abesh in tour arrivano in Calabria una delle tappe della band Salentina sarà Corigliano Rossano ad agosto i Boom D'Abesh raccontò l'America che non conoscevamo scomparsa a 97 anni l'attrice Ellen Barolini narrò la storia della nonna Calabrese questo era appunto sulle pagine del quotidiano del Sud torneremo tra poco di nuovo sulle pagine del quotidiano del Sud non appena appunto ci avvieremo alla conclusione del nostro appuntamento con lo sport ora andiamo a dare uno sguardo come al solito anche alle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola sul Corriere della Sera debito le nuove regole dell'Unione Europea la Repubblica fuoco sui giornalisti appunto il ferimento a Cashon dell'inviato la Repubblica poi la stampa si chiama Zelinski ferito un giornalista italiano libero guerra ai fannulloni il giornale l'Europa batte cassa il fatto quotidiano la goccia cinese e dei sì sente Zelinski spiazza USA e Unione Europea la verità modello vaccini per tutti i farmaci il tempo zavorra europea il messaggero patto di stabilità stretta dell'Unione Europea domani PNRR in bilico attenzione sul MES governo messo all'angolo dell'Unione Europea poi il mattino nuovo patto di stabilità c'è la stretta dell'Europa il manifesto se telefonando con la foto del leader cinese sì poi il riformista i giri di valzere dell'Avvocato Conte adesso gli piace la Meloni il sole 24 ore patto di stabilità le nuove regole Unione Europea per l'Italia correzione da 8-15 miliardi il gazzettino patto di stabilità stretta Unione Europea e poi abbiamo il dubbio guerra fredda dal CSM i consiglieri avvisano Pinelli poi ancora l'avvenire telefonata con Zielischi si prova la mediazione il secolo XIX la confessione del Camallo ho ucciso per la mia donna poi l'identità fuga dal PD scrive l'identità sull'Ego Ucraina vincere ricostruire metro Sudan l'incubo del virus il resto del Carlino psichiatra uccisa ora una nuova legge la notizia torna l'austerity e sprechiamo il PNRR ci vorranno decenni per rimediare i danni della Meloni l'opinione buon ferragosto a tutti poi il quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia ricordiamoci che l'Italia è appesa a un filo la discussione fitto presto soluzione per rata PNRR confronto tra governo e Bruxelles queste erano appunto le prime pagine dei quotidiani nazionali e per concludere restiamo ai quotidiani nazionali ma con i quotidiani sportivi Inter bella di coppa su Gazzetta dello Sporto la Juve spenta in Zaghi va in finale 1-0 per l'Inter sul Correa dello Sporto Simone Boccia Max decide De Marco 1-0 24 maggio a Roma l'assalto al trofeo l'Inter batte la Juve lo specialista in Zaghi in finale Simone appunto ora la Champions su tutto sport Allegri che pena Di Marco gol Inter in finale sul QS quotidiano sportivo l'Inter strappa Juve a secco e andiamo anche allo sport del quotidiano del Sud brutte notizie ancora per la Regina Regina ancora un deferimento è arrivata un'altra tegola per la società Amaranto e ci sarà un'altra penalizzazione Menez Canotto dichiara crisi di Camporese diffidati a rischio squalifica poi Cosenza Speranze anche per Rigione i tifosi si preparano una delle partite più importanti dell'intera stagione il difensore potrebbe essere convocato difficile un recupero completo per Florenzi Catanzaro Foresti rinnovo ufficiale quindi il direttore generale ha rinnovato con il Catanzaro con Vivarini il tecnico invece ancora si tratta per la conferma malintesa fra il club e il tecnico tarda ad arrivare Crotone la carica di Branduani il portiere guarda il futuro tutti concentrati per giocarci alla grande i playoff serie D la Mezzia playoff da centrare fondamentale sarà la gara di domenica prossima tra città di Sant'Agata e la Mezzia volley Superlega un tricolore per Corigliano Rossano nella filane Scudetto in campo Laurenzano e la via prodotti bizantini intanto ha il volley playoff serie A2 maschile la Tonno Calipo vince la prima semifinale 3 a 0 contro Santa Croce ad Amantea c'è il grande beach volley arrivano top player e nazionali a Spezzano albanese il campionato centro-sud di karate tradizionale anche questo appunto sulle pagine dello sport del quotidiano del sud con cui siamo arrivati anche per oggi appunto alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali in tv come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale terrestre vi ricordo che comunque potete seguirci anche sulla nostra pagina facebook che anche sulla nostra piattaforma youtube con appunto il giornale tv che ogni giorno con voi vi ricordo alle 14 gli appuntamenti alle 14 e poi le repliche alle 20 e alle 7.30 del mattino quindi abbiamo visto dunque abbiamo appunto dato spazio alle prime pagine sia dei quotidiani regionali ma anche le pagine interne sia ai quotidiani nazionali tante le notizie che appunto abbiamo anche approfondito sempre nel corso del nostro consueto appuntamento con i giornali in tv che è arrivato alla fine anche per questa nuova edizione come sempre da Pasqualino lettura è tutto grazie per averci seguito e naturalmente con i giornali in tv vi do appuntamento alle prossime edizioni a